ciao a tutti sono andancare e benvenuti in questo nuovo video in questo video vi mostrerò un piccolo trucco per risparmiare acqua e soldi in bolletta tutti noi ogni mattina prima di lavarci apriamo il rubinetto dell'acqua e aspettiamo che arrivi calda in questo modo l'acqua scorre inutilmente sprecando un bene prezioso in un anno considerando tutti i giorni quanti litri di acqua vengono sprecati inutilmente per evitare questo spreco vi basterà procurarvi un secchio e posizionarlo nella vasca da bagno lasciate scorrere l'acqua fredda nel secchio fino a quando non arriva quella calda a questo punto potete lavarvi con l'acqua calda e utilizzare l'acqua fredda per altri scopi come e cosa possiamo fare con l'acqua nel secchio possiamo annaffiare le nostre piante lavare un capo di abbigliamento delicato versare l'acqua nel gabinetto al posto di tirare lo sciacquone in questo modo potrete risparmiare una grande quantità di acqua e soldi in bolletta ecco i passaggi da seguire procurarsi un secchio posizionare il secchio nella vasca da bagno aprire il rubinetto dell'acqua e aspettare che arrivi calda quando l'acqua calda arriva lavarsi utilizzare l'acqua nel secchio per annaffiare le piante lavare un capo di abbigliamento delicato versare nel gabinetto al posto di tirare lo sciacquone spero che questo trucco vi sia utile se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale grazie per la visione scrivete nei commenti da dove ci state guardando nel prossimo video vi manderemo un saluto speciale se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale non perdere i prossimi video attivando la campanella